Cioè, ma vogliamo essere sinceri? Ma vogliamo veramente lamentarci di questi zombie? Perché mi distruggono la torre. Ma voi non sapete neanche che cos'è questo. Ma voi non lo sapete neanche, ma non sapete neanche che cos'è quello. Non lo sapete proprio cos'è questo. E fidatevi, ringraziate il vostro signore che hanno messo questi quattro tipi di zombie e non hanno messo questi quattro tipi di zombie. E tra tutti questi quattro, il più rompi è sicuramente lui. Lui, maledetto lui. Perché per chi sa di cosa sto parlando, lui è proprio un pezzo di... Eccolo, clicchi di nuovo e si lamenta il nuovo aggiornamento dell'Epic Games. Ma perché gioca Fortnite se non ti piace? Ma lo smittila di giocare a Fortnite se non ti piace? Basta, basta, rompere. Eh, ma a ulti non piace mai niente, ma si lamenta sempre. Ragazzi, per favore vi chiedo una cosa velocissima. Potete, per favore, andare su supporta un creatore nello shop e scrivere OctiPFI e poi cliccare su accetta. A voi non costa niente, per me è tantissimo. Quindi, per favore, fatelo. Se non volete farlo, non fatelo, però io così sarò triste. Vi dico la verità, ho rifatto questo video per ben due volte. Per questo ieri non è uscito il video, proprio per il discorso del fatto che l'ho dovuto rifare due volte. Perché non mi piaceva ogni volta che registravo, non mi piaceva quello che era venuto fuori. Quindi questa volta sono mediamente arrabbiato due volte. Per il fatto del fatto che ho registrato due volte e anche per il fatto del fatto che la gente disprezza questo aggiornamento. Come fate a disprezzare questo aggiornamento? Accidenti, lo vedete questo pulsante dell'enter? Serve a prenderlo a pugni. Ecco, io lo prenderò a pugni per tutto il tempo. No, perché faccio cose col microfono strane. Allora, mi spiego meglio. Adesso la Epic Games ha fatto questo aggiornamento ultimo dei Fortnite Mares, che probabilmente tra poco toglierà, perché oggi è il 31, quindi probabilmente lo toglierà tra poco. Dove semplicemente ha aggiunto due cose fighe. Uno, gli zombie. Due, il fatto che puoi aprire il piccone quando ti stai buttando da un'altura e volartene via. Detto ciò, io sono arrabbiato. Arrabbiato per tutta quella gente che dice Eh, gli zombie fanno schifo, eh, eh. Mi danno fastidio perché non mi fanno luttare. Mi danno fastidio perché buttano giù la torre. Sì, ma non buttano giù la torre solo a te. Non danno fastidio nel luttare solo a te. Danno fastidio a tutti. E allora uno dirà Ma perché? Ma perché? Allora tenere queste cose qua È ovvio. Perché è un gioco. Perché bisogna divertirsi. Perché devono esserci difficoltà delle volte che fanno anche un po' ridere. Ah, quello è morto per gli zombie. Ah, che sfigato. A volte mi capita di andare a fine partita e vedo uno vicino a degli zombie che viene ucciso dagli zombie. E dico Ah, che sfigato questo. Fa ridere. Cioè, bisogna divertirsi in questo gioco. È un gioco. Bisogna divertirsi. Non bisogna solo puntare a essere competitivi. A essere bravissimi. Perché vi svelo una crudele verità. Se voi pensate di essere bravi perché fate 4 kill vi ricordo di persone che ne fanno 20. Quindi finché voi diventerete bravi ormai quelle persone saranno ancora più brave. Quindi non provateci. Divertitevi. E che cavolo. Eh, io non so. Per una volta. Io che mi lamento sempre di tutto. Di tutto. Di tutto. Di tutto. Per una volta l'Epic Games fa una cosa che ci sta. Fa una cosa bella. Fa un aggiornamento geniale. E no. La gente. Per la gente. Tutto il resto deve lamentarsi. Cioè, se alla gente piacciono le cose uguale Octi si lamenta. Se alla gente non piacciono le cose uguale Octi gli piacciono le cose. È così. E posso dire di avere un po' di esperienza su Fortnite essendo che sto in questo gioco diciamo da quando è uscito. E per carità questo è un aggiornamento geniale perché 1. Questi zombie a parte che non sono per niente fastidiosi rispetto a quelli di Salva il Mondo e chi gioca a Salva il Mondo lo sa e ditemelo nei commenti se giocate e se sapete di quello di cui sto parlando perché veramente gli zombie alveare hanno proprio rotto ma non capisco la gente che si lamenta di questi zombie qua che non fanno nulla. Cioè, non fanno nulla. E anche se uno ti ha tirato una manata lo spari e ti ridà scudo ti ridà vita quindi dai ragazzi ma cosa ci lamentiamo? Che secondo me le partite a fine partita ormai erano tutte uguali. Erano lì ognuno aveva il suo fortino chi aveva la safe a favore o chi era in alto era avvantaggiato e quindi le partite erano bene o male sempre uguali. Invece adesso con questi zombie la gente non si sta a costruire fortini assurdi. Perché? Perché sprecherebbe materiale che poi andrebbe sprecato da questi zombie che lo distruggono e secondo me è bellissimo il fatto che questi zombie diano fastidio perché è una cosa in più da calcolare perché tu non basta che stai attento a dove sono gli altri giocatori ma devi anche guardare dove sono questi zombie qua. Che poi gli zombie ti aiutano una vita ti danno armatura scudo vita ti danno armi fighe cioè veramente se a inizio partita parti male se ti metti là a distruggere tipo una cinquantina di zombie ti fai un inventario di tutto il rispetto io ultimamente mando sempre foto Shikoku Jin di io che ho l'inventario tutto dorato e adesso ve le faccio anche vedere queste cose perché non sono io deficiente cioè a quanto pare la gente si lamenta di sti zombie ma io veramente non capisco cioè è veramente bello il gioco dove tu stai a fine partita su una torre fermo col tuo cecchino che sbuchi la testa di tanto in tanto per tirare un colpo e rientri è bello così e aspetti che la safe arrivi a uccidere i tuoi nemici e che devi muoverti con la safe secondo me no poi il deltaplano parliamo del deltaplano cavolo hanno fatto sta roba del deltaplano secondo me è bellissima bellissima poi torniamo agli zombie è bellissima cioè tu adesso puoi fare giocate che una volta non potevi fare puoi divertirti in maniera in cui prima non potevi divertirti perché se una volta creare una scalinata verso l'alto era una cosa che se facevi perdevi la partita e quindi perdevi 10 minuti della tua vita e dovevi ricominciare e ti sponava e non l'avessi fatto adesso tu ti farai una bella scalinata fino in cielo e sparirai col cecchino dall'alto verso il basso e nessuno perderà tempo in munizioni a buttarti giù la torre perché non ha senso perché tanto poi voli via è bellissimo ti permettono di fare giocate che prima non potevi fare e purtroppo purtroppo so che questa cosa dei deltaplani è a tempo limitato e che presto verrà tolta però io spero che la epic games abbia visto che la gente si è divertita molto adesso perché quando fai una build fight che vogliono magari buttarti giù il fortino tu te ne voli via bellissimo io non capisco la gente che può lamentarsi di un aggiornamento del genere perché potete dirmi quello che volete ma gli zombie che danno fastidio io li amo perché danno fastidio a tutti e quindi siamo tutti sfigati uguale e cioè sono bellissimi sono bellissimi perché rendono il gioco più giocoso più divertente meno serio e competitivo come tutti lo stanno cercando di far diventare e secondo me se un gioco è divertente non è competitivo al tempo stesso almeno raramente succedono cose di questo genere quindi perché la gente si diverte meno su Fortnite che tempo fa per un semplice emotivo che tutti stanno cercando di diventare i più forti del mondo che tanto non diventeranno mai un'altra storia però questo è il problema di Fortnite questo è il problema per cui tanti si lamentano che non si divertono più sapete perché una volta ci divertivamo tutti perché una volta tutti erano scarsi uguale tutti non sapevano giocare tutti erano ugualmente scarsi e quindi essendo tutti ugualmente scarsi non c'era quello che diceva io diventerò il più forte di tutti tutti giocavano in maniere differenti c'era quello che pushava ma che era scarso non riusciva a costruire anche perché al tempo non si buildava per pushare per attaccare si mirava e si sperava di avere una buona mira c'era quello che già da metà partita si costruiva un castello c'era quello che si nascondeva tutto il tempo nei cespugli e stava lì e faceva le partite stealth con le armi silenziate eccetera eccetera cioè ragazzi una volta Fortnite era divertente perché si facevano cavolate assurde che se le guardi adesso dici ma che stupido che Nabbo farebbe una roba del genere ma al tempo era divertente perché eravamo tutti in abi perché al tempo non c'era il discorso di dobbiamo essere competitivi no al tempo c'era il discorso dobbiamo divertirci e purtroppo con questo aggiornamento no purtroppo per fortuna con questo aggiornamento l'Epic Games ha cercato di reintegrare questa cosa qua ma a quanto pare la gente non l'ha capito anzi no la gente l'ha visto come mi danno fastidio questi zombie perché non riesco a giocare e invece secondo me sono bellissimi hai capito hai capito tu io che mi lamento sempre di qualsiasi cosa di qualsiasi battle pass che mi fa schifo delle skin degli aggiornamenti questa volta io dico brava Epic Games perché hai fatto veramente una cosa proprio se fosse per me io vorrei una modalità a parte solo con gli zombie cioè con gli zombie e con i giocatori tipo Battle Royale come è adesso e giocarei solo a quella smetterei di giocare a Battle Royale normale solo per giocare sempre con gli zombie perché ti aiutano a inizio partita li uccidi e farmi roba e alla fine partita danneggiano te come danneggiano gli altri ed è più interessante perché è una cosa in più da calcolare che prima magari non c'era da calcolare e ci saranno sempre gli scarsi che appena muoiono per gli zombie diranno ma non è giusto perché io sono sfigato e gli zombie attaccano sempre me quanti amici avete che usano sta scusa condivideteli questo video così si risentono qua in queste parole perché io ve lo dico che ci sarà sempre gente che dirà eh gli zombie buttano giù la torre solo a me e agli altri no secondo me è tutto divertente è divertente il deltaplano che puoi aprirtelo e scappare via quando vuoi è divertente il fatto che gli zombie ti inseguono e che vogliono ucciderti bravissima Epic Games perché veramente questa volta hai fatto un lavoro eccezionale e io voglio proprio sentire le lamentele di voi nei commenti di quelli che non sono d'accordo con me perché ci saranno sempre gente sd'accordo con me sd'accordo lo so che è sbagliato sd'accordo con me e voglio sapere il vostro parere perché magari io non mi rendo conto magari ci sono altre motivazioni che chiaramente possono far capire che in realtà questo aggiornamento è una stupidata ma io voglio proprio capirla quindi per favore ditemelo ditemi perché perché questo aggiornamento dovrebbe essere brutto cioè spiegatemi e non ditemi perché a me buttano giù sempre la torre perché in realtà è solo questione di fortuna se becchiarmi rare oppure no dagli zombie quindi gli altri hanno più fortuna non tirate fuori la questione fortuna bu io non ho altro da dire ciao fatemi sapere quello che ne pensate nei commenti ciao